Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, cantieri per il giubileo in Prati sono terminati i lavori di riqualificazione del manto stradale di via Terenzio dove nei prossimi giorni sarà completata la segnaletica, iniziato intanto sempre in Prati il cantiere in via Boezio, a questo seguiranno i lavori in via Cicerone, via Orazio e via Ovidio, cantieri che fanno parte dell'intervento giubilare dedicato alle pavimentazioni storiche e a proposito di interventi giubilari procedono quelli a Piazza Pia, San Giovanni, Ponte dell'Industria e Piazza della Repubblica, i lavori termineranno a dicembre.